Una persona straordinaria, io poi negli anni l'ho conosciuto meglio, ero piccolina rispetto a lui e quando stavamo a Leggio insieme, mi ricordo quando facemmo la principessa Sissi, che lui faceva mio marito, Franz Josef, era disperato, perché io non sono mai stata molto pratica con il Sinc, poi specialmente da ragazzina, e non c'erano le colonne separate, per cui tu stavi a Leggio insieme, quindi se io sbagliavo la doveva rifare pure lui, poverino, ed era un'agonia, perché c'erano gli anelli all'epoca, non è che andavi al punto direttamente, dovevi ricominciare tutto da capo, per cui erano disperati tutti quelli che stavano vicino a me, poi ho imparato però, e ogni volta che lo mandano, questo che praticamente lo mandano sempre, la principessa Sissi, è un ricordo solare, bello.